Ecco l'entrata in campo delle due squadre, 26esima giornata di campionato, seconda categoria girone C tra la Virtus Castelfrentano e il Fossacese a 90. La Virtus Castelfrentano si trova in serie positiva da 9 giornate. Ecco l'arbitro che fa saluto al pubblico, adesso c'è la scelta del campo o del pallone. Ecco si salutano le squadre, l'arbitro va a controllare l'altra rete. Oh, vi volete piazzare vi faccio una foto? Se vi volete piazzare vi faccio una foto. Ok, pure circolare pure va bene. Sì, ok, va bene così. Ok, gli mettevi tutti i spalle dritti? A posto? Giù? Grazie. Alla prossima! Grazie.